per un soffio ad un attacco di due ad un attacco di due 4 ad un 11 persone dopo la zona ci sono nessuno quindi ci parla non rimane nessuno oggi i spari che saranno cadendo in casa a destra e a benzina a un attacco di destra a un attacco di uno ma adesso a uno due bianche vediamo 5 punti di quanto la maschera? eh ci avevamo consumato ci ha finito la mia scuola tu stai in safe? no eh? eh no la roba la roba no non mi ha ruotato quando a destra io non mi ha ruotato eh non mi ha ruotato voi stanno andando e stanno andando bianche stanno andando stanno andando e stanno andando mi spostro guarda quando ne sono quattro di siamo l'unico di un metro ne mancano dieci insisti è andato qui ti è merro ti è merro la da struppiare che si cadono da voglio che stanno andando stanno andando un bombardamento non lo tenete poi c'è un tocco di line della bomba di benzina gas in arrivo nuova zona sicura contrassegnata anna cadi anna cà meta confermata quattro bersagli rimasti ottimo attacco a grappolo alleato avete del gas in arrivo sono pronto sono pronto dove stato eh a capo dai dove eeeh 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 peppe la vince e le cuffie fanno la differenza a fa un mocco 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 la genista là la genista là e va a chi ha fatto push da bomba e benzina sopra contro i tutti o sapeva va va bello a fa un bello che è come ha detto frate mi ha detto ma se hai ne abbia eh eh no no ah poi sono pure in mania ma le cuffie aiutano ah no bello 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 clippate le clippate ah non sai che lui sta a me Federico e peppe la fa vincere peppe lo va a prendere eh bella bella bello 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 Ah, ahahah, vediamo che hai fatto! Oh, con due titanze fatti, non hai fatto 3 o 3? Tu sei spostato pure o non è un po' in là? 3 non hai fatto 3 o 1, hai fatto un po' in più! Ha fatto molti tanti che hai sparato con le loro, perché mi hai fatto sacra di assist he qua tre, tu 1 e 6 tanti A 2 e 4 tanti hai fatto Oh, fra, ti parli a casa che io sono, che ho fatto 5 o 5 per ruotare sentivo proprio bella, la città fra chi sta qui poi sono chiudere a destra e a sinistra, non ho stato un anno a rete qui e l'ha giudito le facce, l'avrei trovato, è morta, non si mentre chi le gine 3 stavo chi la rete della macchina? che devo fare da nero? bravo, mi ha fatto eh, io la sentivo proprio bella, città ho trovato tutto il coraggio, ma mi sento rivolto cosa è? ma tu pensa che a me quando mi è venuto a prendere la casetta chi si chiama 7 sparando, mi sono trovato in una casa perché oggi ho visto 7 angolillo e mi era a mettere il coraggio ma ho messo le piastre, sono venuto a prendere quello a me che il pistolo ci me l'hanno mangiato bello, oggi mi ha amafanato il terzo o? beh, mi ha amafanato il terzo ho sfruttato al massimo questi punti doppi ma sì ma mi rimane tanto e come mi sentivo bella mamma eh, frate, che è importante guardi, guardi sono una peppa che ho tanno che ci ha superato sì ma quando è stato? io che stessero 30 o 29 a me allora, tu sei a 29 io sono a 40 e peppa che ho tanno a 41 non ci sono mai stato ma, comunque, guardi, guardi guardi, 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 guardi sempre con questi cuppi secondo me ho chiesto a peppa eh, perché guardi, guardi è una tappa, è una tua gioca, è quel ritmo allora, l'ultimo hai fatto la clip? no, l'hai fatta, ti faccio la clip l'hai fatta, fai per tu, fai per tu come hai fatto? non ho fatto il quattro finale ah, fm share, come si fa? share, eh? eh, fa carica, fa carica e si asci, tipo, guardato salva clip, tipo quadrato avvia nuova registrazione, salva gioco recente salva breve clip salva videocomple, breve, breve ultimi ultimi 5 minuti no, posso mettere quando vuoi, ultimi 5 fai